Rocco, qui c'è qualcosa che non va. Come c'è qualcosa che non va? Mancano i dati del caso Pentangeli. Mike, scusami. Ah, sei tu. I bambini sono qui fuori, noi stiamo partendo. Come state partendo? Partiamo tutti domani. Rocco, scusami. Sì, sì, ho capito, vado. Io non ci torno con te nelle vada, Mike. Ho portato i bambini a salutarti. E volevo anche dirti che sono contenta per te. D'altronde sei sempre stato troppo abile perché qualcuno potesse batterti. Perché non ti siedi? No, mi trattengo solo qualche minuto. Ci sono delle cose di cui stavo pensando da tempo. Cambiamenti di cui vorrei fare. Non c'è più tempo per i cambiamenti, Mike. E mi ero ripromessa di non accennarlo neanche, quindi... Che vorresti dire? Che cosa mi dici di quella storia di Pentangeli? Che è arrivato il fratello? Non sapevo neanche che avesse un fratello. E dov'è adesso? In viaggio su un aereo per tornare in Sicilia. È bastato che mostrasse la sua faccia. Questione tra fratelli, Kay. Io non certo per niente. Bene, Mike, ora me ne vado. Nessuno porta via i miei figli, mi sono spiegato. Tu sei mia moglie e loro sono figli miei. Tu mi dici che mi ami e poi mi tratti come se fossi la tua schiava. Possono mettersi fra un uomo e una donna tante cose. Ma fra loro non cambia nulla. Mike, tu ti rifiuti di vedere. Che cos'è che non vedo, scusami? Guarda, guarda come stiamo diventando noi due. E non ci pensi all'esempio che stiamo dando ai nostri figli. Che c'entrano adesso i bambini? Non dirmi che non c'entrano niente quando è chiaro che sta andando tutto in malora. Non devi più dire questo. È tutto errore. Non devi più dire questo. È tutto errore. Non devi più dire questo. Io non sento più nessun amore per te, Mike. Non pensavo che sarebbe potuto succedere. E invece è successo. Kay. Ma che vorresti da me, scusami? Che vorresti da lei? Che ti lasciassi andare via? È questo che pretendi da me? Che ti lasciassi portare via i nostri figli? È questo che pretendi? Lo sai che questo non accadrà mai? Che io utilizzerò tutta la mia forza se è necessario affinché questo non accada. Non lo capisci Kay? Tutto inutile. Ascolta. Ascolta. So che abbiamo passato un momento difficile. La perdita... La perdita del bambino. Il trasferimento. Tutto questo. Ascoltami. Mike. Mike. No. Perché non vuoi capire? Ascoltami. 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 Il bambino non lo ha perso per una disgrazia. Ascoltami. Ascoltami. È stato un aborto. Un aborto come il nostro matrimonio anche quello è un aborto. Perché a bene dirlo non è stato Dio ma il demonio. Io non lo volevo un altro figlio tuo Mike. Non volevo un altro figlio che crescesse in questo ambiente di assassini e allora l'ho ucciso. Perché lo sentivo che era un maschio. E lo sapevo che non mi avresti mai perdonata. Però l'ho fatto per mettere fine a questa storia di siciliani che si odiano da una vita. Basta! I miei figli non li porti via, mi sono spiegato. Sono anche figli. I miei figli non li porti via! Io li voglio. I miei figli non li porti via! Non lo volevo!